E' un tema che ci sfiora, quindi è chiaro che da quel punto di vista per noi va bene la questione com'è, anche perché le piccole imprese hanno delle specificità, delle difficoltà, quindi non è pensabile adattare l'articolo 18 anche alle piccole imprese, quindi non è uno dei problemi per noi del tavolo. Ovviamente anche quella barriera dei 15 dipendenti è una barriera su cui si può riflettere, quindi questo lo vedremo nel prosieguo. Vorreste cambiare il limite del numero di dipendenti? Ma diciamo che ne parleremo, vedremo.